Direttamente dalle sfilate di Boston, il Grissotto. Direttamente dalla collezione Autunno-Inverno Italiano, la lingua mantovana. Ed ecco qui, direttamente da Parma, la risposta alla moda londinese. E per concludere, non poteva mancare, direttamente dalle sfilate di Parigi, la baguette. Buongiorno signora, cosa stai facendo? Uno sfilatino. Ma se volesse qualcosa di più abbiamo il fantofolo e se non dovesse bastare la ciabatta. Ma se non è accontentata ancora possiamo soddisfarla con la focaccia. Belin, Belin, Belin. E questo cos'è? La focaccia ligure. Signora, sto per darle un segreto. Si tenga forte. Io, quest'uomo, lo pago. Chieda! Chieda!